ebbene si ragazzi nuova lingua innanzitutto salve a tutti e benvenuti su questo nuovo tutorial cambio lingua perché l'elfico allora poiché non sapevo che lingua portare sul canale dato che con il giapponese mi stressavo cioè non è che non stesse volevo cambiare un poco insomma detto in parole povero ho deciso di portare l'elfico di tolkien tolkien è appunto lo famosissimo scrittore del signore delle deni e la lingua che ha appunto fatto appunto degli elfi e l'elfico sono aggruppato un sacco di lingua tra cui il kenia eccetera bene come prima lezione andremo a scrivere il nome di paolo rossi se avrei voluto scrivere il nome di alexa mar per primo però non adesso magari in un altro episodio comunque sì se volete andare a vedere il link di alexa ma lo lascio in descrizione qui sotto comunque fatto sta adesso iniziamo con paolo rossi con il nome di paolo rossi allora il primo carattere è una sciocchezza perché basta fare una sorta di triangolo sulla una i poi questo è facile perché no no non devo fare il punto sbagliato allora devo fare una i però poi devo fare tipo una sorta di onduletta non così ma assolutamente no assolutamente no poi ci sarà una foto in sovrimpressione di come deve essere scritta veramente poi questo è un carattere facile perché basta fare una j diciamo al contrario così più o meno e due virgolette non guardate così ovviamente però vabbè poi spazio testa cosa di prima intanto si vede tutto spocato ecco adesso che ho messo più a fuoco l'immagine dovrei andare meglio no un altro pannino poi qui basta fare un punto interrogativo al contrario che dovrei riuscire a fare allora vediamo se ci riesco anche questa volta più o meno però non è così dopo vi lascio il nome corretto scritto correttamente e poi una chiave di sol non mi ricordo un puntino ecco qua fatto che diciamo scritto in maniera più decente è così quindi se questo non lo dottare sui video in effetti vi è piaciuto lasciate un bel vi piace un commento così da farvi capire che volete altri nomi e noi ci vediamo al prossimo settore bene ragazzi